Ehi, da quanto tempo? Dopo un anno torniamo su questo canale. Non è una postazione bellissima, però eccoci. Cosa faremo quest'oggi? Stiamo su Minecraft, il gioco che mi ha dato i Natali. Il gioco che mi ha iniziato a YouTube. E hanno aggiunto le capre. Cioè, non ancora, però, nello snapshot ci sono le capre. E oggi andremo a vedere proprio le capre, quello che ci interessa. Siamo nel bioma giusto? Certo. Non mi ricordo più i tasti, cioè, da tanto che... Ok, ecco una capra. Vi giuro non l'ho spawnata io. Oh, che carino. Ciao, capra. Guardate, cioè, sono veramente fighe. Poi ho visto che fanno un sacco di cose interessanti, che oggi andremo a vedere insieme. Ci voleva un nuovo mob per un bioma del genere. Sì, le capre spawnano dove c'è la neve. Figate, mi piacciono. Dove sei? Ah, eccoti. Le capre nel mondo normale le conosciamo perché sono molto, molto cattive. E saltano, si arrampicano sulle montagne, come fa questa. Ok, prendiamo l'uovo della capra, lo mettiamo a fianco a questa e adesso facciamo nascere un caprino. Ehi, capre, venite qui. Una e l'altra? Ah, ok, ok, siete qua. Io do un po' te e un po' te. Vediamo cosa esce. Sì, è proprio un caprino. Un caprino senza corna, con le zampotte nella neve. Ah, mi sta emozionando per le cose così stupide. Però guarda, è così piccolo. No, dove va? No, non là. Ehi, no. Comunque, guarderemo una cosa adesso. Allora, creiamo una piattaforma. Poi ci distanziamo di un po' di blocchi. Ne creiamo un'altra. Questa qua è una cosa che ho letto, non so neanche se funziona. Però noi mettiamo un po' di capre qua. Tipo tre. Poi prendiamo questo. Tecnicamente dovrebbero salt... No, no, no così, capra. No, dovrebbero saltare. Ehi, capre. Aspetta, prova a creare un fossato. No, non funziona. Ehi, capre. Di qua? Sì, dai, dai, salta. Perché non va? No, non si salta così, capra. Tipo se io le porto qui dove c'è un buco. Saltate? È vero che salti? Sì, è vero che salti? No. Qua, qua, sì. Ehi, capra. Vieni qua. Brava, brava, brava. Qua. Salta, ti prego. Ma dai, sei rotta. Ora ti faccio saltare io. Oh, salta. Comunque, a parte il fail, hanno un'altra funzione che è questa. Siamo solo io e te. Vai. Uccidimi. Dai. Dai. Se tipo io ti picchio. Avete visto? È saltata. È saltata pure questa. Cioè, vuoi vedere se da fa un party qua sotto senza di me? Tu neanche mi picchi. Sei inutile. Ah, ok. S'ho caduto da solo. Il genio del male. Ha. No. No. Non me l'aspettavo. Chissà se ti danno il latte. Vediamo. Oh, sì. Latte di capra, baby. Bevi un po', zombie. Ah, ti meno con il latte di capra. Fin quando non diventa formaggio. Sto cercando di testare questa funzione perché, tecnicamente, se loro mi attaccano, io mi sposto, colpiscono il muro con la testa, mi droppano l'u... il corno. Stavo dicendo l'unicorno. Però ce n'hanno due, quindi i corni. Rimane un'ultima possibilità, spawnarne tipo centomila. Credo che così distruggo il mondo. Perché la versione è ancora instabile, quindi potrei crashare. Però adesso io mi metto qui. In mezzo a queste capre voglio essere attaccato, per cortesia. Sì! L'ha fatto! L'hanno fatto! Oh! Tutti questi piccoli mi attaccano. Brutti figli, tipo... Sta laggando tutto perché non... Spawnate veramente troppe, cioè... Oh! Oh! L'hai fatto tutto, visto? Ora io vorrei riuscire a farli prendere il muro. Adesso sei condizionata ad attaccarmi. Io mi sposterò. Tipo mi metto qua, in faccia al muro. No! Dai! Ti prego! Che vitaccia! No! Ma mi ha attaccato! Vai, secondo round, non mi interessa. È più di mezz'ora che sto qua, sto sprecando la mia vita. Ma ho una cosa in mente. Se la capra attacca la mucca, io metto il blocco prima, la capra sbatte e mi droppa il corno. Comunque raga, dopo un'ora di registrazione, non sto scherzando, sono 52 minuti e 49. Dopo un'ora di registrazione posso dedurre che ho sprecato il mio tempo e non ho ricevuto nessun corno. Per questo video è tutto, grazie di essere tornati anche a voi. Io sono molto felice di fare gameplay di nuovo. Fottute capre! Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!